Interviene l'assessore regionale allo sviluppo economico Mino Borracino, agenzia regionale di emergenza urgenza. È giusto dare adeguata risposta di certezza occupazionale. Ho partecipato all'Attiano al convegno organizzato dalla CISL sull'istituenda agenzia regionale di emergenza urgenza in Puglia che avrà il compito di programmare, coordinare e gestire le attività sanitarie di emergenza urgenza territoriali ordinarie e straordinarie. Seguo da tempo con attenzione l'evolversi di questo progetto e la mia personale attenzione è rivolta certamente a garantire dignità ai tanti volontari e lavoratori del settore. Ritengo che la messa a regime di un nuovo sistema di emergenza urgenza che comunque costituisce un'eccellenza nel panorama nazionale non potrà non avvalersi della competenza ed esperienza del personale sanitario di cui si è pregiata in questi anni. Occorrerà quindi innanzitutto inquadrare opportunamente tutti i dipendenti stabilizzando il personale precario del 118, medici, operatori oltre a tutelare i tanti volontari pugliesi attraverso un concorso pubblico. E conclude così Borracino giova rammentare che i tanti volontari in ogni provincia pugliese hanno garantito egregiamente in questi anni il funzionamento del servizio del 118 ed è dunque giusto adesso dare un'adeguata risposta di certezza occupazionale.